Non è bastato a Landry a giocare bene sul campo della Turris perché è arrivata un'altra sconfitta in campionato con tantissimo rammarico? Sì, molto rammarico perché comunque la prestazione è stata fatta bene e purtroppo il calcio è fatto di risultati. Quando non riesce a portare a casa nemmeno un punto comunque si è molto dispiaciuto perché, ripeto, andiamo in campo sempre per fare risultato. Quando poi vedi che la prestazione è fatta bene e il risultato non arriva è normale che un po' l'autostima si abbassa. La difesa sta tenendo e anche bene, quello che manca è il gol? Io non parlo proprio di reparto difensivo perché comunque di difesa si lavora sia in squadra, quindi parlo dagli attaccanti che comunque loro prestano bene, indirizzano bene e quindi ci faccio aiutare il nostro lavoro. Per quanto riguarda l'attacco dobbiamo lavorare bene anche tutti noi, partendo dalla difesa, comunque l'azione parte da noi, quindi far arrivare più palloni a loro e metterli nelle giuste condizioni. Domenica l'occasione subito per riabilitarsi, arriva allo Stadio degli Olivi un Latina che comunque riduce da due sconfitte consecutive. Sì, diciamo è un'occasione per noi per ripartire da quello che avevamo fatto contro il Taranto, quindi sicuramente arriva una squadra che ha subito due sconfitte, quindi ha il dente amaro. Dobbiamo essere bravi noi, dobbiamo essere bravi noi a portare gli episodi dalla nostra parte e come ha detto il mister ci giochiamo una finale.